Cosa significa per voi scrivere gialli? Io direi che noi due siamo romanzieri. Il sottogenere poi è un'altra domanda. Io sono convinto che il genere del noir o di questo genere che cerca di dare luce alla società dell'ombra o anche agli abissi nei tempi in cui viviamo sia il genere più adatto per rispecchiare e descrivere anche le nevrosi di questa epoca e della società in cui viviamo. È una grande sfida perché per uno non è solamente tutto triste e crudele per l'altro porta in sé una grande assurdità che poi fa anche piacere raccontarlo e dove diventa crudo e nudo anche proprio la nevrosia. Scrivere gialli per me significa sostanzialmente indagare sulle mie paure e trovare quella chiave dal racconto per cui la mia paura diventa comprensibile e diventa empatica con quella di chi mi legge. Quindi cerco una verità dentro di me che mi spaventa del presente della morte, di quello che mi può accadere del fatto che ci sia un potere immanente che nasconde la verità e così via tutto questo, tutto quello che è paura, rabbia, dolore lo cerco dentro di me e cerco di restituirlo raccontando una storia ai miei lettori questo per me è il giallo il giallo, il noir, il thriller e credo che sia sostanzialmente questo poi la forma che prende probabilmente avrebbe la stessa forma che se facessi un romanzo storico o se facessi, non so, un romanzo di letteratura pura perché 50 sfumature di grigio probabilmente dentro ci sarebbe questo perché questa è la cosa che mi interessa. Quale ruolo ha l'ambiente nel romanzo giallo e in particolare quale ruolo ha avuto l'ambiente nei vostri romanzi? Per uno sono convinto che non si tratta di un genere che è nato solamente nell'arco degli ultimi cento anni io credo che sia veramente la base della nostra società e troviamo tantissimi esempi della letteratura classica di Lito Castigo di Dostoevsky per esempio che rispecchia un'epoca e una società le nevrosi di una società in cui anche Dostoevsky si dimostrava come un partecipante osservatore da autore come lo facciamo noi contemporanei ma il genere è ancora più vecchio perché troviamo talmente tanti esempi nella mitologia greca e soprattutto in quel libro che è la base della nostra cultura europea cristiana il libro che comincia con un fratricidio che è pieno di omicidi, di truffe di tradimenti, di speculatori, di cornuti e tutto quanto allora alla fine il genere non è niente di nuovo ma è sempre di una altissima attualità noi siamo anche ricercatori perché ci concentriamo come autori, partecipanti e osservatori ci concentriamo su una fascetta di questa vita che io almeno penso aver penetrato capito e poi che sia un punto in cui riesco anche a narrarlo con tutte le storie anche opprimenti ma anche quelle che ci danno una luce di speranza ma anche di quelle divertenti perché sono talmente pieni di contraddizioni che sembra di essere l'inverosimile invece è la realtà quindi in questo caso l'ambiente del romanzo è assoluto anche dalla società? il romanzo è sempre stato uno specchio di un'area geografica la mia è l'Europa e di un'epoca l'epoca è quella che io riesco a capire diciamo che torna indietro dalla contemporaneità io scrivo romanzi contemporanei ma hanno sempre le loro radici e le radici che vedo io sono la fondazione di due grandi stati europei che sono stati fondati nello stesso momento l'Italia e la Germania dove abbiamo veramente una grande parte dell'Europa dentro di tutti i romanzi importanti che ho letto penso che la cosa che li ha resi unici è la descrizione dell'ambiente ambienti nell'ambiente sociale ambiente spirituale ambiente fisico quindi penso che sia fondamentale per qualsiasi genere narrativo l'altra c'è una cosa in più sul giallo diciamo il giallo classico dove c'è un po' di tecnica è che un'indagine se tu hai l'indagine come motore della storia ha bisogno di un ambiente dove esercitarsi chiaramente che dà come i limiti del gioco dentro cui dobbiamo muovere i tuoi personaggi per quanto riguarda le mie scelte io ho sempre scelto di raccontare degli ambienti che in qualche modo mi hanno dato delle emozioni in cui che io attraversavo e che ad accumulo accumulavo dentro di me emozioni momenti cose che sentivo la necessità di raccontare e con l'ultimo romanzo Uccidi il padre ho raccontato Roma che è la prima volta che l'ho fatto perché è una città che in questi ultimi anni ho vissuto molto e ho voluto tornare a raccontare Cremona che è la mia città natale perché sentivo finalmente di avere la maturità giusta per ricominciare a raccontarla perché le città dove si nasce a volte bisogna prendere un po' di distanza per riuscire a vederle per quello che sono Cosa conta di più in un romanzo giallo? Il contesto nella quale i dettagli vengono espressi o le vicende quindi la narrazione dei fatti? Le storie sono tutti quanti collegate i destini singoli le verità diverse degli individui sono tutti quanti collegati il romanzo non è una indagine ma si basa su una ricerca noi non abbiamo il compito di mettere qualcuno dietro le spare ma dare luce ad alcune parti della società all'oscuro o soprattutto a quella parte della società all'ombra vuol dire in una società in cui abbiamo sempre più denso intreccio tra politica economia e crimine organizzato questo genere occupa un posto molto importante ormai in cui i media sono sempre più concentrati sempre più gestiti anche di grandi poteri o poteri politici o economici vuol dire nasce in quel caso nasce una mezza verità che porta che opprime qualche parte dei fatti come sono e la mezza verità diventa la base per la notizia di domani che è molto molto pericoloso invece il romanzo non può rinunciare alla verità e a tutte le fascette è censurabile solamente se lo scrittore lo racconta in modo noioso o sì in pessima narrazione questo sì altri non possono censurare che noi stessi allora l'intreccio tra i fatti che raccontiamo e soprattutto tra l'evoluzione dei caratteri che portano la storia questo questi due sono legati in un modo molto saldo e non si può pensarlo in un altro modo io penso che quello che conti di più in assoluto sia la voce dell'autore i fatti le descrizioni il concatenamento degli avvenimenti hanno un'importanza relativa se la voce di chi scrive non è capace di indagare e di trasmettere il senso delle cose che vengono scritte anche il fatto più meraviglioso può diventare una rottura di palle se è raccontato male su questo mi rallaccio a quello che diceva lui e come invece la descrizione di un niente questo al di là del giallo ma in qualsiasi forma ripeto di narrazione la descrizione di un niente però con una voce con un'alta voce con una voce potente può diventare un romanzo meraviglioso se vogliamo citare l'Ulisse di Joyce non è che cadano grandi cose però è un romanzo potentissimo Conan Doyle analizzando i crimini dal dettaglio alla situazione più in generale ha rivoluzionato quello che è il modo di pensare al romanzo giallo qual è l'impronta della sciata dal genere dal giallo italiano Conan Doyle era figlio era figlio della sua epoca era un positivista pensava che tutto si potesse risolvere attraverso la razionalità e della scienza quindi la scienza che cominciava a mostrare i primi passi insomma dalla rivoluzione industriale e quindi pensava che tutto si potesse spiegare cioè che non ci fosse uno spazio tra tolto l'impossibile diceva diceva Sherlock Holmes tutto quello che rimane per quanto improbabile è la verità ora noi sappiamo nel presente che questo è un pensiero ovviamente ingenuo oggi come oggi non abbiamo così questa fiducia potentissima nella scienza se non in certi casi qualcuno ma in assoluto noi dubitiamo di tutto e quindi diciamo che abbiamo cambiato il modo di vedere il mondo detto questo Conan Doyle è stato non un inventore di un genere perché prima di lui c'è stato Edgar Allan Poe e prima di lui probabilmente ci sono stati tanti altri che possiamo come lui cita sempre la Bibbia insomma la Bibbia c'è stato un omicidio e il primo indagatore era Dio che diceva ma che fine ha fatto tuo fratello quindi chiede in questo modo è un'indagine quella anzi un po' sorniona perché lui già lo sa e quindi già la storia del giallo è molto lunga però diciamo il giallo codificato comincia prima con Popo poi con 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 sull'andolio quindi diciamo noi discendiamo da lì in qualche modo però dopo di lui sono arrivati tanti altri che ci hanno dato un pezzo perché la storia della cultura non è un salame da cui tagli le fette, è un po' tutto insieme e noi siamo parte di questo salame. L'unica volta che devo contraddirti, io non mi vedo come un discendente da lì, mi vedo molto più nella tradizione della grande letteratura che metteva al centro una società intera. In differenza di un Conan Doyle ho anche esempi dello spessore più contemporaneo che hanno solamente la vittima, un inquirente e il cattivo. Questo non mi basta perché ci siamo un quarto gruppo che siamo tutti quanti noi, possiamo rivolgerle le spalle o no, ma siamo partecipanti o anche nella nostra passività che rivolgiamo le spalle e facciamo finto che queste cose non succedano. E poi torniamo anche sulla Bibbia, solo per farvi arrabbiare le sette vacche grasse e le sette vacche magre. Finché crediamo a queste leggende, non siamo neanche capaci di gestire una crisi economica e ci ritiriamo sulla nostra passività personale che le cose passeranno fuori dal nostro destino. Ma noi viviamo in una democrazia. Il valore più alto che abbiamo da difendere è la democrazia. Indifferente come viene abusata o anche sia incompleta. E lì, nel narrare le vicende che mettono in pericolo questo nostro sistema, la nostra libertà, anche del pensiero, crisi finanziaria, ha certe ragioni, una oligarchia ha certe ragioni. E se noi non diamo luce a queste cose, allora li accettiamo e diventiamo partecipanti attivi. E lì, questo genere che offre una vasta scala di osservazioni, anche di verità diverse, che puoi anche confrontare quello del banchiere o dello speculatore con quello che alla fine non sa come arrivare alla fine del mese. Sono sempre due verità. O poi di più. E questa è la funzione del romanzo, di dare, di creare un insieme, di raccogliere queste voci. E poi, sono d'accordo, siamo noi a portare l'insieme di queste voci in una certa direzione, senza essere moralisti, perché non debbiamo essere insegnanti. Il nostro lettore è abbastanza adulto e indipendente per farsi un giudizio. Noi dobbiamo descrivere. E poi, ogni tanto, descriviamo cose che sono assolutamente immorali. Vuol dire che non è detto che noi siamo i nostri protagonisti, ma diamo voce a questi protagonisti o anche alle vicende che succedono. L'emotività dell'investigatore può influenzare quelle che sono le indagini, sia nel romanzo che nella vita reale? È difficile generalizzare, nel senso che io penso che, se parlo dai miei romanzi, a seconda della storia ho un tipo di personaggio. Io ho come personaggi sempre, più che sensibili, sono frantumati. Cioè, il gorilla ha la tua personalità e quindi ha grossi problemi di salute mentale. Dante è un fobico, quello di uccidere il padre è un fobico. Colomba ha degli attacchi di panico. Santo è stato un attimo a una rimozione del suo passato, perché mi piacciono questo genere di figure. Però non si può generalizzare, ognuno può scegliere la sua strada. Va detto che, siccome l'investigatore, ragioniamo su un giallo classico, diciamo così, l'investigatore deve risolvere le cose, riuscendo a scoprire quello che il lettore non arriva a fare e che i suoi colleghi non riescono a fare, chiaramente deve avere una sensibilità particolare per alcuni aspetti della vicenda che lo scrittore mette in luce. Ma questa è una questione di tecnica, ognuno usa la sua. Sono assolutamente d'accordo, dipende dai protagonisti. Da me c'è una figura molto strana, che è la Xenia Zanier, che è nata orfano. Adesso chiedete, ma è come qualcuno può nascere orfano? È nata nella notte del terremoto in Friuli, del 6 al 7 maggio del 76, e viene salvata con un cesareo d'urgenza. La mamma muore in quel momento in cui sente che la figlia è salva. Il papà, che era un poliziotto del paese di Gemona, viene trovato morto dopo tre anni. Lei cresce poi, adottata da parenti lontani, in una zona di confine. Confine molto importante, non solamente perché porta il borderline, ma anche il borderless, senza confini, plurilingua, come se vive in quella zona nel Friuli Venezia Giulia, che nasce, cresce tre lingue, sicuramente. E lei ha un grande difetto. Soffre di una claustrofobia. Una claustrofobia di un panico, di attacchi di panico. non può andare in un centro commerciale, non può andare in un ascensore. Preferisce fare 25 piani in un vano scale a piedi. Riesce a disciplinarsi solamente con la massima forza, in situazioni che chiedono la sua professionalità. vuol dire che se soffre, certamente studio queste malattie, faccio le ricerche profondissime, e dopo queste reagiscono in gran parte in un modo diverso che ognuno di noi potrà immaginarsi. E questo porta in una certa direzione dopo un romanzo. Il suo ultimo romanzo, Uccidì il padre, esplora l'ambito del thriller. Come mai ha deciso di intraprendere questa strada? Dunque, perché la storia richiedeva un thriller? Come dico sempre, se la storia avesse richiesto un porno, avrei scritto un porno. In quel caso la storia che avevo in testa aveva bisogno di un thriller. Quindi di un racconto a scatole cinesi, in cui la chiusura di un capitolo e di un passaggio avvenisse attraverso un colpo di scena che ne aprisse un altro e così via, a concatenazione. Sono arrivato a scrivere questa storia per due motivi. Il primo motivo è che volevo scrivere questa storia, perché alla fine quello che fa uno scrittore è dare, a meno che non sia un mercenario puro, ma ne conosco veramente pochi, scrive quello che si sente di scrivere. Cioè che ha dentro, che ha un po' lo tormento, un po' lo affascina, un po' ha voglia di fare. Non c'è altro modo. La seconda cosa è che ho impiegato anni per avere gli strumenti necessari per poter scrivere un thriller. Io ho sempre scritto Noir e come lo scrivevo io era un romanzo in prima persona in cui c'era la narrazione di una vicenda che veniva attraverso gli occhi di un protagonista, lui, che la raccontava fino alla fine. Questa era la cosa più semplice da fare quando ho cominciato a scrivere, perché era un'autodidatta e volevo raccontare una storia come la stessi raccontando ad un amico. Quindi ho fatto questo, sono andato lì e alla fine ho trovato questo. Chiaramente con dentro un po' di trucchetti, ma fondamentalmente semplici. Con gli anni ho imparato a costruire diversamente i punti di vista, fare la costruzione differente dei capitoli e alla fine sono stato in grado, secondo me avevo gli strumenti necessari o sufficienti per poter fare una storia in cui i punti di vista fossero molteplici, in cui i piani temporali fossero molteplici, gli ambienti, gli spostamenti di ambienti fossero molteplici e che questo disvelasse la verità finale un po' alla volta. È più difficile, per come intendo io il noir e come intendo io il thriller, è più complesso per me scrivere un thriller che un noir, anche se un noir, ovviamente dipende dalla voce, può essere un capolavoro letterario, ma come tecnica è più semplice di un thriller per me e quindi sono diventato un po' più bravo, spero. E non sarebbe anche più difficile scrivere un porno? Eh ma un vasto esperienza. No, il porno credo che sia ripetitivo sostanzialmente. No, è difficile, le scene di sesso, le scene d'amore faccio fatica perché c'è sempre un crinale, da una volta è quello che diventa un po' tecnico, l'altro diventa volgarissimo, quindi c'è sempre una cosa, forse in tedesco è più facile. Le scene di sesso come ti vengono? Ma scritte o vissute? Scritte, scritte. Scene di sesso, sì, perché no, riesci anche, ma scrivere un porno, come accennavi tu, su 300 pagine o su 500 pagine, può essere veramente duro. Nei suoi libri spesso evidenzia la contraddizione e le problematiche nazionali a livello politico ed etico e morale. Come mai questo argomento le sta particolarmente a cuore? Ma sono sempre le margini della nostra vita che sono certamente più pieno di contrasti, che sono più ricche di contrasti, di contraddizioni, di bugie, di ipocrisia, di finti opportunismi, tutto quanto. I margini non sono solamente limiti geografici o frontiere politici e tutto quanto, no, certamente siamo anche nella nostra società sempre divisi e più divisi, c'è il mondo tra la politica, tra il privato, tra l'economia, tra il lavoro, è sempre meno integrato, viene sempre più separato questa vita e noi lo permettiamo. Allora, è una forma di rimetterlo insieme anche, di ricollegare sia l'ansia personale, sia gli effetti della vita pubblica della società sul essere singolo, sul singolo, sull'individuo e lì si ricollega perché siamo comunque, viviamo comunque in un insieme di tutto e escludendo qualcosa diventerebbe una narrazione incompleta. Qual è la storia reale che più l'ha incuriosita nel corso della sua carriera? Vuoi cominciare tu? Allora, di solito io non racconto mai, mi chiedono qualche volta pareri sulla storia reale, dico sempre non ne parlo perché ne potrei parlare come se ne parla al bar. Non ho la competenza di un vero investigatore, non ho letto gli atti giudiziari che faccio fatica ad ora indagare e spesso non ho il tempo di farlo. Però va detto che un caso che cito anche dentro Uccidi il Padre mi aveva colpito negli ultimi anni è quello del caso dell'asilo di Rignano Flaminio, della scuola di Rignano Flaminio in cui una serie di praticamente tutto il personale della scuola più altri personaggi tipo un benzinaio sono stati accusati di essere dei pedofili che molestavano i bambini e quello che è venuto fuori cioè quello che io leggevo dagli atti che venivano pubblicati sui giornali in cui si davano i mostri facendo delle cose tremende era una sensazione di irrealità di quello che stava che leggevo cioè quello che leggevo era non riuscivo a crederci non è che non esistano i pedofili i molestatori eccetera eccetera ma quello che leggevo io leggevo più che altro un senso di sgomento da parte di genitori che aveva portato l'autorità giudiziaria a indagare e che in qualche modo con questa indagina ha rafforzato le paure dei genitori creando una sorta di cortocircuito e il risultato finale è che sono stati assolti che insomma il caso sono stati dichiarati innocenti se non sbaglio o assolti o insomma non lo vado a procedere ma la cosa incredibile di questo fatto e quindi mi ha colpito su cui appunto non do un giudizio ma do una lettura una sensazione è che tutti sia i genitori che sono ancora convinti che i loro figli siano stati molestati che ci sia stato operato una mostruosità nel loro paese sia gli accusati hanno avuto la vita rovinata Già da bambino facevo fatica di credere le favole perché erano talmente tanti elementi inventati che mi era troppo inverosimile e troppo capivo che 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 non c'entrava veramente tanto con la vita almeno i fatti magari metafore tutto un altro discorso non ero in grado di capire quelli ma allora significa che io faccio prima di scrivere faccio ricerche profondissimi fino a sette otto nove anni poi ti succede che tu inventi una persona allora diciamo un medico legale deve avere di una certa età deve avere deve essere riconoscibile ha le sue caratteristiche soprattutto in questo caso parliamo di un'ottantenne arriva la gente che mi dice ma io l'ho conosciuto ma sì interessante arriva un altro erano tre proposte io non l'ho mai conosciuto di persona ma ho ricercato la sua biografia e lo stesso succede che un giorno mi chiama una signora di una certa età facendomi complimenti parlava senza prender fiat senza respirare neanche e arriva un certo momento dopo 15 minuti doveva respirare finalmente cercavo di chiudere e lei diceva posso dire finalmente qualcosa dico sì signora lei dice ma allora quando ho letto quella scena piazza unità davanti al caffè degli specchi sedute alcune signore finte bioni in una certa età accompagnati da da un cagnetto piccolo ho pensato quello stronzo mi ha visto allora vuol dire non mi ha chiamato di farmi complimenti mi ha chiamato per dirmi che sono uno stronzo basta hai 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 Grazie a tutti